Dopo il passaggio del fronte, sull'Italia affluisce aria più secca, ma la presenza di correnti sud-occidentali ancora fresche in quota mantiene una certa instabilità. Tra domenica e lunedì una depressione si formerà invece sul centro Italia, richiamando correnti da nord-est di Bora al suolo, umide invece da sud in quota. Per sabato prevediamo inizialmente bel tempo, con cielo sereno su tutta la regione. Poi nel pomeriggio un po' di variabilità in montagna, dove sarà possibile qualche locale rovescio o qualche isolato temporale. Venti di brezza sulla costa e temperature massime sui 26-27 gradi. Domenica è inizialmente poco nuvoloso, poi con il passare delle ore aumento della variabilità, con la possibilità di qualche pioggia sparsa, qualche rovescio o qualche isolato temporale più probabile nel pomeriggio. Sulla costa soffierà Bora moderata, in progressivo aumento nel corso della giornata. Temperature massime ancora attorno ai 26-27 gradi. Lunedì ancora brutto tempo al mattino, con cielo probabilmente coperto, nuvoloso e con piogge in genere moderate. Poi da martedì bel tempo e temperature in aumento fino a 30 gradi. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livo Stefanutto.